Alberto Razzetti, settima edizione di questo Cool Swill Meeting, un appuntamento importante in questi ultimi anni. Tanti i nomi passati da Merano, Patrinieri, Detti, Ceccon. Quest'anno, Alberto Razzetti, insomma, un appuntamento importante anche in previsione di preparazione dei prossimi impegni. Sì, sono molto contento di essere qua, la mia seconda volta a questo meeting, devo dire già la prima volta, a Merano ha piaciuto molto, quindi sono contento di essere tornato. È un appuntamento molto importante in un periodo della stagione sicuramente complicato per andare a fare delle grandi prestazioni, però è importante per valutare comunque come si sta preparando, il livello degli allenamenti. Ora siamo appena tornati dall'allenamento in altura, quindi sarà anche un buon test per vedere come sta funzionando l'allenamento che abbiamo fatto nelle scorse settimane a Livigno, quindi non vedo l'ora di scendere in acqua venerdì e dare il massimo. Ecco, Merano è un po' da baglia, diciamo così, ha gli atleti azzuri, porta anche fortuna. Negli anni passati, appunto, Patrinieri, Detti, andando via da Merano, poi hanno portato a casa grandi risultati. E con l'anno scorso, tu stesso, ovviamente, l'anno passato, però ecco, sono questi gli eventi che aiutano anche a far capire fin dove si può arrivare con i propri tempi e con le proprie prestazioni. Sì, sicuramente se tanti atleti come quelli che hai nominato sono passati di qua, un motivo c'è e sicuramente mi fa piacere essere tra questi. Come hai detto, è un momento importante, sicuramente è una tappa molto importante di questa stagione, perché comunque ogni gara è importante, non solo quelle che ci si arriva preparati, ma anche queste qua, appunto, può essere un buon momento che dà anche fiducia per il proseguimento della stagione. Il prossimo appuntamento, il Sette Colli e poi Giappone. Sì, esatto, settimana prossima ci sarà il Sette Colli, che per me, fortunatamente, è una tappa un po' anche quella di passaggio, essendomi già qualificato, però comunque, come ho detto, ci tengo a far bene tutte le gare, sia qua che settimana prossima, e poi chiaramente l'obiettivo grande quest'anno sono i mondiali di Fukuoka.